Negli ultimi mesi si è parlato molto del flirt tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, nato nella casa dell'ultima edizione del Grande Fratello. Una relazione piena di alti e bassi, dovuti in particolare alle numerose gaff del giovane calabrese nei confronti dell'attrice, è stata quella vissuta dalla coppia. Nel marzo scorso, all'interno del loft di Cinecittà, dopo alcuni fraintendimenti, si erano riavvicinati senza, però, chiarire mai la situazione davanti alle telecamere di Mediaset 1. Recentemente, Giuseppe ha dichiarato di voler riconquistare Beatrice, affermando. Sì, sono innamorato e cerco di riconquistarla perché voglio vivermela come non sono stato in grado di fare nella casa. Stavolta non permetto a nessuno di influenzarmi sul nostro rapporto. Non ho più paura di dire che sono innamorato, ora, Beatrice sembra puntare proprio sul desiderio dei fan di rivedere la coppia nuovamente unita per promuovere un evento in Sicilia, di cui Giuseppe e Beatrice saranno gli ospiti d'eccezione. La didascalia della foto su X, ex Twitter, pubblicata per presentare l'incontro recita, a mano a mano. Staremo a vedere se si tratta di una semplice strategia o di un vero e proprio ritorno di fiamma. Nel frattempo, i fan possono gioire per l'organizzazione del primo evento di coppia tra i due, che si terrà il prossimo 12 luglio in un agriturismo a Milazzo, in provincia di Messina.